Fin dall'inizio ha voluto chiarire che il suo promozione nella promozione non ci sarebbe stato, ma questo è prima ancora di vedere il film in verità. Poi siccome ovviamente tutti quanti hanno lanciato a chiedere di partecipare invece alla vita promozionale del film, ha disegnato delle pagine che qualcuno di voi avrà letto, è molto chiaro ed esastivo su quello che pensa, e cioè che il suo lavoro è il libro e poi la scendiatura, una cosa già diversa dal libro, e il film è una terza cosa diversa, ma comunque diversa anche dalla scendiatura, ma certamente dal libro, e che appartiene in parte a lui, in parte a chi ora firma questa opera nuova, cioè il registro del film, e quindi lui avrebbe potuto ritagliare il suo spazio, ma non partecipare a Venezia, alla proiezione, alla conferenza stampa, eccetera, eccetera, e a questi giorni che ancora abbiamo in renozione. Posso qua.